cristo regni ho appena visto il video con cui il dottor cionci mi attacca eccetera risponderò meglio a vari aspetti delle sue affermazioni nei prossimi video ma quello che voglio dire subito è che lui appunto per per far pensare che tutti sbagliano perché tutti sono costretti in certo modo a dire una verità imposta fa il paragone tra la situazione attuale e la situazione del periodo di gheddafi in libia no una situazione di dittatura beh caro dottor cionci lei fa un paragone assurdo perché perché se fossimo in dittatura come lei vuol far pensare nessuno le avrebbe fatto pubblicare il libro né tantomeno gliel'avrebbe fatto presentare in tanti posti se fossimo in dittatura come lei fa pensare certamente tutto quello che lei fa contro quello che lei fa pensare come la dittatura che le si oppone non le sarebbe possibile quindi non siamo in dittatura quindi vuol dire che tanti possono parlare liberamente dicono la verità dicono la verità che è contraria a lei i grandi esperti sono completamente contro di lei sia per quanto riguarda il diritto canonico e anche per tante affermazioni sue teologiche e anche tutti gli storici di rilievo non accettano le sue affermazioni quindi questo sistema che lei ha utilizzato per giustificare no e per per giustificare il fatto che lei si sente quello che dice la verità mentre tanti sono oscurati e non non parlano non possono parlare che sono diciamo costretti a dire il contrario eccetera questa questa sua questa sua tattica crolla miseramente lei è semplicemente uno che dice delle colossali falsità come ha detto quel ragazzo l'altro giorno alla maturità no ha detto che la divina commedia è stata scritta da garibaldi ecco lei dice delle cose simili appunto solo che quel ragazzo sicuramente si sarà corretto lei invece nonostante dica delle corbellerie falsità pandonie colossali ecco lei nonostante dica queste colossali falsità insiste dicendo che lei ha ragione eccetera 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 no caro dottor cionci le sue affermazioni crollano miseramente non siamo in dittatura lei dice delle colossali falsità che si oppongono a tutti come quel ragazzino che appunto quel ragazzo che aveva detto quelle quelle cose e aveva detto quella assurdità che garibaldi era il il l'autore della divina commedia bene risponderò poi alle altre sue affermazioni più avanti intanto ringrazio dio perché appunto uno come lei che dice colossali falsità mi attacca anche molto fortemente eccetera vuol dire che la verità che di fondo le dà molto fastidio e sarà questa verità che abbatterà tutte le sue colossali falsità e io continuo sempre a pregare finisco diverse volte i miei video pregando perché il signore appunto che verità faccia emerge la sua verità la verità che appunto io mi sforzo umilmente di portare avanti quindi concludo questo video ancora una volta con questa preghiera gloria al padre al figlio allo spirito santo come era in principio e sempre nei secoli dei secoli amico il signore tu sai smaschera sempre di più gli errori di questo dottor cionci per la tua maggior gloria non per la mia gloria ma per la tua gloria per il bene delle anime perché tanta gente si renda conto di questi errori perché tanta gente ritorni sulla via della verità queste favole siano smascherate e siano veramente da tutti considerate come considerate come tali gloria al padre al figlio allo spirito santo come era in principio e sempre nei secoli dei secoli amici